Ingresso gratuito, musica, street food e manufatti artigianali. Questo weekend il Mercato delle Erbe apre le porte ad un evento chiamato La Bottega, in cui si metterà in mostra tutta la creatività degli artigiani. Un evento che per due giorni contribuirà all'arricchimento di un luogo destinato dal prossimo ottobre a tre anni di chiusura per i lavori di qualificazione del complesso San Domenico. Per i cittadini sarà un'opportunità di scoprire fotografi, pittori, grafici, musicisti e tanti altri tra i 16 espositori che creeranno le loro opere live davanti ai visitatori. Sabato La Bottega sarà aperta dalle 17 alle 21, mentre nella giornata di domenica dalle 10 alle 20. Questo sabato e questa domenica si propone questo evento che è diverso dai soliti mercatini. È una cosa nuova per la città di Pesaro, l'abbiamo già proposta a dicembre. Comunque è un evento, quindi diciamo che l'attenzione è rivolta all'artigianato. Gli artigiani sono i protagonisti di questo evento, ma c'è tutto un contorno. Il contorno ci saranno dei pittori, quindi degli artisti, dei musicisti. Ci sarà modo di passare del tempo in questo spazio che è il Mercato delle Erbe, quindi una location suggestiva di Pesaro, dove si potrà proprio passare del tempo comprando manufatti originali, passando del tempo ascoltando musica, spizzicando qualcosa. Quindi volevamo solo proporre una realtà che in Romagna esiste già e qui a Pesaro ancora non è molto conosciuta. Sarà una novità per Pesaro questo evento perché sarà un contenitore di idee. Idee che saranno anche innovative perché in una location molto bella come Pesaro portare una novità a livello anche artistico e artigianale è fondamentale. Anche per un senso di novità e di crescita culturale. Perché dare spazio a degli artisti e degli artigiani che diversamente non hanno magari possibilità, dare questa specie di palcoscenico evento per loro è importante proprio per poter crescere anche artisticamente. In più il pubblico che verrà e quindi partecipe di tutto quello che avverrà all'interno del Mercato delle Erbe, che sarà fra l'altro una versione innovativa e diversa come non l'avete mai visto, potrà apprezzare questi manufatti e anche gli artisti, quadri e musicisti che ci saranno all'interno. Potete rimanere con noi, apprezzare tutto e anche gustare cibo e manicaretti che verranno cotti e cucinati all'interno del Mercato delle Erbe con degli street food all'avanguardia.